Spina, la Cisla, Bruzzo e Molise è fermamente contraria a questa manovra che riguarda le pensioni di reversibilità. Perché? Non si può continuare a pensare di finanziare esigenze che ha la collettività sottraendo risorse direttamente a quelli che la crisi l'hanno di più sulle loro spalle, pesa fortemente. Quindi come CGL e Cisla Will siamo contrari alla delega che il Parlamento sta discutendo dal Governo per intervenire sulle pensioni, nuovamente al fine di costituire questo nuovo istituto che è di sostegno alla povertà. I soldi vanno presi in altre sedi, intervenire continuamente sul sistema delle pensioni ormai è diventata una cosa assurda. Noi abbiamo bisogno, viceversa, che il sistema pensionistico venga reso flessibile perché ormai l'età pensionabile anche per la pensione di anzianità è arrivata a 67 anni. Ci sono settori produttivi come quelli dell'edilizia, ma tanti settori produttivi dove arrivare a 67 anni per poter andare in pensione rischia di mettere in discussione anche la propria esistenza di vita perché aumentano i rischi infortunistici. Siamo diventati un'Europa la nazione dove si va più tardi in pensione, era quella dove si andava prima ed era sbagliato, ma adesso che siamo quelli dove si va più tardi, si vuole ancora intervenire quando invece c'è bisogno di aiutare le pensioni ad andare prima in pensione e far entrare i giovani, visto la situazione occupazionale che c'è. Non siamo proprio d'accordo su questo provvedimento del governo, se il governo insisterà e non convocerà le organizzazioni sindacali ci mobiliteremo sicuramente.